Pre-Live 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 Buon pomeriggio tifosi di Federici TV, benvenuti al centro sportivo Pietro Pisani in Palermo per il calcetto Palermo. Un saluto da Gabriele Riccobono, penultima giornata del campionato regionale Under-17 Girone B che vede di fronte due squadre che sono il Calcetto e Palermo 25esima giornata di questo campionato Ecco le squadre già che sono entrate in campo, hanno fatto il classico saluto Calcetto in completo bianco-azzurro Adesso ho andato a salutare la panchina del Palermo Palermo invece in completo, classico, rosa-nero Ci aspetta davvero un pomeriggio di spettacolo calcio qui al centro sportivo Pisani Ovviamente Ovviamente dicevo squadre che non hanno più nulla da dire Ovviamente il Palermo come sapete non fa classifica Il Calcetto che è comunque sia in caso di vittoria Punti che non conterebbe Insomma partita solo per lo spettacolo Speriamo che ci sia quest'oggi Iniziate la partita, iniziate la gara Buon divertimento a tutti Buona partita Prova subito questo lancio lunghi in avanti Il Palermo Poi Scardina non arriva su questo pallone Occhio ancora Pallone che giunge alla fine A Miloro Pallone verso Scardina Qui c'è una trattenuta Ma sale sulla corsia a destra Anello Poi viene chiuso Rimessa tra le ma Partito bene il Calcetto Qui grande difesa della palla Grande azione da parte di Miloro Pallone che alla fine giunge Nella zona di Capitano Davi Io annuncio i giocatori in campo Delle due squadre E allora Per il Calcetto In porta a Pedicone Poi abbiamo numero 2 Anello Fiore Barone Rizzo Davi Capitano Poi D'Amico Rizzo Gabriele Poi abbiamo Scardina Carrozza E Miloro Allenatore è ovviamente Mister Francesco Patti Per quanto riguarda invece C'è il Palermo In porta a Pileri Poi abbiamo Angilella La Rosa San Nasardo Mattagliano Poi Basile Il Capitano Balsano Uniemi Lamantia Cintura E Coppa Donatore Mister Emanuele Governale Palermo Che adesso sta battendo questa rimessa laterale Palermo Che qui c'è un duro scontro di gioco Il fallo alla fine è in favore del Palermo Qui davvero Ho dei dubbi su A riguardo Perché Mi sembrava netto invece C'è la gamba tesa Nei confronti del difensore del calcetto Tocchio a questo calcio in punizione Per il rosa nero Siamo già al terzo minuto in corso Occhio a questo calcio in punizione Tre uomini in barriera Per Pedicone Pallone sul secondo palo Colpo di testa Da parte di Basile Il Capitano Ma spedisce la palla fuori Invio dal fondo Per il calcetto Davi Apre verso Rizzo Giovanni Maria Poi Lo aiuta Carrozza La fine guadagna rimessa Tra le il calcetto Poi Rimessa laterale In favore del Palermo Pronta a battere Angilella Ma Miloro Non era d'accordo Voleva Che la rimessa Fosse in suo favore Poi Mette fuori Qui palla D'amico Poi Colpo di testa Tentato Da parte Di Lamantia Poi Prova A partire Qui Miloro Viene chiuso però Una buona intervento Dalla parte di Mattaliano Partita davvero Già molto intensa Sin dai primi minuti Qui Rizzo Si dimentica il pallone E poi Lo aiuta Carrozza E viene rimessa Tra le per il Palermo Ma qui davvero Sono La rimessa tra In favore del Del calcetto Perché Carrozza L'ha fatto Carambolare Il pallone Su un giocatore Del Palermo Uncora Carrozza Guadagna Alla fine Rimessa tra le che Andrà a battere Rizzo Giovanni Maria Pallone Verso Miloro Prova a difenderla Miloro Alla fine Mette fuori Balsano Pallone che Additura Finisce fuori Dal Campo E quindi Si Recupera un altro Pallone Dalla panchina Pronto a battere Questa Rimessa Angilella Angilella Il numero 2 Ora prova A partire Qui il giocatore Del Palermo Allora Contropiede Che non riesce Al calcetto Per la buona Coperta da parte Di Langella Poi 1-2 Ancora Da parte Di L'amantia Poi Davide Testa Prova a partire Miloro Palone che Termina Sopra La tribuna Altro palone che Termina fuori Ma comunque Partita davvero Molto bella Molto intensa Il calcetto Che comunque Oggi Vuole mostrare Che non è una squadra Di bassa classifica Che La squadra c'è Qui pallone In mezzo Verso Miloro Con un attimo Di ritardo Ci arriva Miloro Pileri La chiama E la fa sua Subito apertura Sulla corsia Mancina Poi pallone Ancora Centrale Per il capitano Basile Poi pallone Verso Angilella Ma sbaglia Qui Non supera Carrozza E quindi Rimessa Laterale Per il calcetto Quando siamo Già al sesto minuto 0-0 Qui tra il calcetto Palermo Pone verso Carrozza Sarà Da difendere bene Poi guadagna Alla fine Ancora rimessa Terrale Avanza Piccoli passi La squadra Di mister Patti Pronto a battere D'amico Si va a vedere Qui Il giocatore Del calcetto Guadagna Ancora Rimessa Laterale Pronto a battere Sempre Rizzo Vieni Incontro Rizzo Gabriele Il fratelli Si cerca Non si trova Poi scardina Solo per un attimo Poi pallone Aperto Sulla corsia Mancina Ma La fine Davide Chiude bene Finmi loro Viene anticipato Pallone Alla zona Di D'amico Che Pensa Subito Forza A giocarla Poi Ancora si lotta Davvero Tanti In mezzo Al campo Poi lancio Lunghi In avanti Ma C'è un calcio In favore Del calcetto Davvero Partita Molto Molto Intensa Non c'è Un attimo Di tregua Davide Ancora Davide Rischia in difesa Davide Si recupera Due giocatori Del palermo Davvero Grande personalità Capitano Poi Rizzo Ma Da fiore Sbaglia Qui fiore Pallone Recuperato Da palermo Attenzione Pallone In avanti Posizione Di fuorigioco Da parte Di Lamantia Apertura Verso D'amico Troppo alto Troppo forte Pallone Nei suoi confronti L'angilella Angilella Scusate Poi Pallone Che termina fuori Sarà rinnessa Tra le per il calcetto Pronto Pronto a battere Rizzo Si va a vedere D'amico Alla fine Viene servito Carrozza Ancora Rimessa Per il calcetto Ancora Pallone Recuperato Da Balsano Poi Davi Va dietro Da Pedicone Apertura Sulla Versa Destra D'anello Prova a partire Anello Pallone Verso Scardina Che deve La rimessa Laterale Non viene accontentato Qui l'attaccante Del calcetto Scardina Che è il bomber Del Il calcetto Con 5 reti Alla pari comunque Di D'amico E Miloro Il calcetto Che viene dalla vittoria Per 3-2 Contro La cantera Ciaculli Con le reti Di Bazzas Scardina E Rizzo Qui Miloro Viene chiuso Da Angilella Poi Pallone Recuperato Da Barone Ancora Barone Si lotta Tanti mezzi a campo Poi Carrozza Gira bene Miloro Di prima Prova a partire Qui c'è un fallo Direi Si viene fischiato La spinta Ai danni di Rizzo Batte subito Il calcetto D'amico Pandora in mezzo Colpito in faccia Angilella Sarà Calcio d'angolo Primo calcio d'angolo Per il calcetto Quando siamo giunti Al nono minuto Che sta per scadere Proprio In questo istante Partita davvero Molto bella Molto equilibrata Molto intensa Vedete quando si gioca Contro il perno Si mette sempre Qualcosa in più Pallone Sul secondo pallo Colpo di testa Tutto solo Qui Se non vado errato Scardina Poteva colpire meglio L'attaccante Il bomber Del calcetto Pallone in avanti Di la rosa Ma non trova Nessun compagno Allora Pedicone La fa Chiama La fa Sua L'apertura Sulla corsia Mancina Verso Rizzo Qui viene anticipato Benissimo Da San Nasardo Alla fine Pallone che termina fuori Ultimo tocco Proprio di Un gioco Di un suo compagno Quindi Rimessa La tre per il calcetto Quindi lancio In avanti A cercare lo scatto Di Scardina Ma la rosa Di testa Appoggia A Pileri E poi Ancora Pileri Fa partire Lo stesso La rosa Il numero tre In avanti A cercare Lo scatto Di Lamantia Pedicone Però esce bene La fa sua Pedicone È costretto Ad andare lungo Perché è davvero Passing Alto Quello del Palermo Palone che giunge fuori Alla fine Sarà rimessa La tre per Il calcetto Pronto A battere Il rizzo Viene incontro Carrozza Palone che non è uscito Allora Poi Miloro Grande Difesa della palla A parte di Miloro Prova a partire Ancora Carrozza Ma Se ne va via Ancora Carrozza Tutto buono Carrozza E poi la chiusura Da parte Di Basile Senza fallo Alla fine Prova adesso Di partire Il Palermo Pallone verso San Nasardo In verticale Si va Ancora Da cintura Poi Recupera palla Ancora un ottimo Barone Carrozza Vada l'amico Posizione regolare D'amico Pallone arretrato Ancora D'amico Pallone a sua disposizione D'amico Prova a proteggerlo Lo fa bene Ancora D'amico Prova a partire Va giù D'amico Non c'è nulla Poi ancora Pallone regolato In maniera regolare Dal Palermo Ma Pallone che Credo l'abito Avrebbe chiamato Rimessa Laterale Ma Pallone che Non è riuscito Secondo me D'amico 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 L'incontro Carrozza Alla fine Guadagni Ancora rimessa Laterale Però Si sta attaccando Molto In queste Battute iniziali Sia da una parte Che dall'altra Molto sul Lato Su questo lato Diciamo Sulla nostra Postazione Lato sinistro Del calcetto Lato destra Invece Del Palermo Rappi trovare Richiamare Credo qualche Componte Della panchina Perché Ovviamente Possono stare In campo Solo I componenti Scritti In Indistinta D'amico Ha un'altra Possibilità Vuoi rimettere Dentro Colpo di destra La parte Poi Scardina Non la gira bene Ok Ripartenza Per il Palermo Chiedeva Fallo Cintura Poi Davi Qui Con qualche Rischio Fiore Palloni Avanti Mette fuori Mattaliano Poi Qui Prova a partire Scardina Che viene Messo giù Calcio Punizione In favore Il calcetto Più grande Giocata Da parte Di Scardina E poi Era Questo Fallo Da munizione Quello Per la rosa Secondo me Questa Era munizione Perché Scardina Aveva preso Il tempo Alla rosa Era partito La rosa Ha trattenuto Nettamente Commesso Fallo A Scardina Per non Subire Contropiede Questo è Fallo Tattico Soprattutto Ha fermato Un'ottima Occasione Per il calcetto Ci stava La munizione Richiesta A gran voce Dai Componenti Alla panchina Del calcetto Pallone In mezzo Troppo basso Di Barone Poi Barone Allora Tiro Di Alleggerimento Diciamo In rimessa Laterale Proprio Nei pressi Della Bandierina Pronto A battere Angilella Che Si è Guadagnato A piccoli passi Davvero Almeno 10 metri Poi Spinta Forse Danni Di D'Amico Poi Davi Ancora lui Pallone Verso Miloro Prova Ancora Miloro A difendere Lotta Miloro Poi Scardina Da fuori Sul fondo Cosa Stava Per fare Mattia Scardina Ragazzi Cosa Stava Per fare Scardina Mamma mia Che tiro Da fuori Pallone Che Non si è Abbassato Nel momento Giusto Perché Se questo Pallone Si fosse Abbassato Proprio Nel momento Giusto Sarebbe stato Un grandissimo Gol La parte Di Scardina Quando siamo Al Quindicesimo Minuto 0-0 Ma che partita Poi Pallone Ancora Recurato Dal Palermo Angilella Chiede L'1-2 Angilella Poi Pallone Bello Per Uniemi Che va al cross Guadagna Calcio D'angolo Crescento Bella Molto equilibrata Gioca Corte Il Palermo Pallone In mezzo Mette fuori Il giocatore Del calcetto Poi Carrozza In rimessa Laterale L'abito Se il preparatore atletico O qualche altro deve stare In piedi Diciamo Solo uno deve stare comunque in piedi O sta l'allenatore O il dirigente Insomma solo sempre un compagno della panchina In piedi Qui credo che C'è un compagno del Palermo in panchina che non ha scritto Indistinta quindi forse è stato Invitato a uscire dal campo Se ho capito bene Comunque ritorniamo alla partita Pallone recuperato da Rizzo Poi lancio in davanti Sbagliato recupera la palla Balsano Poi pallone imbucata Forse posizione fuori gioco Chiude bene comunque la difesa del calcetto Fiore ottima La sua chiusura poi d'amico Carrozza Miloro Pallone in verticale Ancora ha perso Suo compagno Alla fine rimessa da Rale Per il calcetto In affanno comunque La squadra di Mister Governale Il calcetto comunque Sta giocando davvero bene Sta lottando su ogni pallone Sta mettendo qualcosa in più Pallone recuperato da Uniemi Inbucata Poi verso Coppa Pallone che termina Tre braccia di Pedicone Poi la gioca dietro Dadavi Vieni in contro Si fa vedere Fiore che sbaglia Qui occhio all'errore Da parte del giocatore Il calcetto Pallone inbucata Ancora colpa di testa Parte di Dadavi Poi lo stesso capitano ad allontanare Occhio a questa ancora azione Bella è Palermo Balsano Vada Mattaliano Ancora il numero 7 Si Se ne va Ancora il numero 7 Pallone verso cintura Pallone Attenzione Raggira bene il Palermo Ma chiude bene il calcetto Poi prova a ripartire con Miloro Che non riesce ad agganciare Allora pallone verso Angilella Che va via Ad amico Ancora Angilella Pallone in mezzo Va giù un giocatore del Palermo Non c'è nulla Si continua a giocare Ancora Angilella Pallone che termina in rimessa laterale Davvero partita molto bella Qui al centro sportivo Pietro Pisani Attenzione Palla al limite Seziona ancora San Nasardo Viene chiuso Poi c'è la palla da Angilella Chiuso anche lui da carrozza Rimessa laterale per il Palermo Cross sul secondo palo Troppo lungo per tutti Però ancora rimorchio C'è San Nasardo Che prova a piazzarla Ma centrale Tre bracci di pedicone Attento qui il portiere Del calcetto Poi è ancora la Mantia La gira verso Cintura Occhio Cintura rientra Nel suo mancino Prova il tiro Alto La porta divesta da pedicone 0-0 Quando siamo al ventesimo Muto in corso Qui ottimo Ricordo la parte di Rizzo Prova a partire ancora Rizzo Inbucata verso Scarnina Non era male l'idea Poi qui fallo E i danni di la Mantia Giusta la decisione di Etriga Anzi fallo i danni di Uniemi Basile va dalla Rosa Prova a partire la Rosa Ancora il numero 3 Poi inbucata centrale Campalla qui di Uniemi Ma posizione di fuorigioco Credo Sì Posizione di fuorigioco Di Coppa Sì Da bene Qui la difesa Del calcetto Calcettazione che sta Per battere Fiore Va lungo Il numero 3 Colpito di testa Questo panone Dall'altro numero 3 Del Palermo La Rosa Poi panone Recuperato dal calcetto Inbucata Chiude bene Basile Poi D'Amico Qui Posizione di fuorigioco Da parte di Miloro Giusta la decisione Del direttore di gara Netta la posizione Di fuorigioco Da parte Di Miloro Qui Basile È costretto a intervenire Iscivato Perché Mattane Ha dato un panone Molto rischioso Poi Pedicone Va a lungo A cercare Scardina Che prova A farsi sentire Però Si aiuta Un po' troppo Con le braccia Fallo Ai danni Di La Rosa Ancora Ancora La Rosa Pallone Centrale Verso San Nasardo Ma c'è un gioco Torra a terra Del Palermo Subito la pietra Deve fermare il gioco Perché davvero Quando si tratta Di un Credo forse Un giramento Di testa Non credo che sia Un fortuna muscolare Si rialza Mattaneano Si tratta Di lui Ovviamente Quando Il giocatore Si Soprattutto Si Mette a terra Da solo Senza Aver subito Un contrasto Di gioco Bisogna subito Fermare Il gioco E nel frattempo Le squadre Approfittano Come vedete Tutte per Dissetarsi Chiedo scusa Tutte per Dissetarsi C'è molto caldo Questo oggi Qui a Palermo Quindi Sangue dal naso Credo Per il giocatore Del Palermo Ne pistassi Ovviamente Fa molto caldo Come dicevo In questi casi Ovviamente Può succedere Fa davvero tanto Tantissimo caldo Questo oggi A Palermo Come mai succede Da Da tantissimi giorni E quindi Bisogna anche Riabituarsi A queste temperature Soprattutto C'è chi Soffre Di epistassi Quando poi C'è Molto caldo Si può Riprendere A giocare E' tornato Anzi ancora no Non è tornato Ancora in campo Perché deve Ovviamente Fermare Il flusso di sangue Il giocatore Del Palermo Pallone Sul secondo palo Chiude in Calcio d'angolo Anello Ancora fuori Mattaliano Sta facendo Medicare Il numero 5 Calcio d'angolo Per il Palermo La torre da dietro Ovvero Basile Tanti uomini Saltare pallone In mezzo Pallone Poi al limite La girata A parte Il giocatore Il giocatore Del Palermo Si trattava Di La mantia Ha tolato Però Lo specchio E la porta Palermo Ancora In Licevoni Qui Inbocata Verso Scardina Non era male La palla Di Rizzo Pronto a battere D'amico Ancora fuori Mattaliano Ancora in dieci Il Palermo Carrozza Vediamo se riesce A profittarne Il calcetto Barone La difenda La protegge bene Ancora il numero 4 Poi ballone Verso Davi Costretto a tornare Dietro Davi Poi qui Sbaglia Pedicone E a porta vuota Segna Cintura Ma qui Suicidio Da parte Di Pedicone Errore Gravissimo Madonnale Cintura Senza pensarci Su due volte A porta vuota Fa 1-0 Ma qui davvero Errore Da parte Di Pedicone Non vorrei che Questo gol Adesso Infrisse Nella testa I giocatori Del calcetto Perché davvero Stava facendo Una partita Perfetta Equilibrata Combattuta Davvero Palermo che Aveva costruito Nulla Anzi L'occasione Avuta Il calcetto Qui davvero Regalo Da parte Di Pedicone Che adesso Però Non deve pensare Più all'errore E soprattutto Deve aiutare Deve essere aiutato Dei suoi compagni E soprattutto Devono reagire I giocatori Del calcetto Perché davvero Immeritato Questo svantaggio Il regalo Da parte Di Pedicone Ha segnato Ripeto Il numero 10 cintura Pallone ancora Al limite Occhio al sinistro Centrale Parata Comoda Per Pileri Ci ha provato Da fuori Credo Rizzo Poi gira Qui Balsano Va Dalla Rosa Il numero 3 Costetta Formarsi E va Da Mattagliano Che è Rientrato In campo Bucata In verticale Verso Cintura L'autore Del 1-0 Qui Gran Palla A servire Coppa Pallone Che poi Non viene controllato Lo stesso numero 11 Tra le braccia Di Pedicone Barone Pallone Aperto Sulla corsiera Versa Nello Che la tiene In campo Coranello Pallone Verso Scardina Preso In contotempo Il numero 9 Alla fine Si va Dietro Da Pileri 27esimo 1-0 Per il Paermo Che è passato In vantaggio Grazie a un Regalo Concesso Da Pedicone Poi Barone Ancora lui Pallone Verso Scardina Prova a lottare Ancora Scardina In maniera regolare Ancora Scardina Prova a partire Il numero 9 Alla fine Viene chiuso Però Dal Gioco del Palermo Si tratta Di San Nasardo Alla fine Pallone Tra i peli Di La Rosa Ma Piegato Sulle sue Ginocchia Ancora Mattaliano Che secondo me Ha qualche problema Quest'oggi Non ce la fa Secondo me Perché è ancora Piegato Sulle ginocchia Vediamo Speriamo che non sia Nulla di grave Sta buttando fuori Il pallone Il calcetto Alla fine Poi lo butta In Palermo Però Perché comunque Mattaliano È piegato Sulle sue ginocchia Secondo me Non ce la fa Quando è così Secondo me Meglio Far uscire Il ragazzo Perché Già Si è fermato La prima volta Il cito Sembra del naso Si è fermato Una seconda volta Vediamo Al momento È fuori Mattaliano Grazie a tutti Abito che Va richiamano ancora Dei componenti Dello staff Delle due squadre Che sono Ancora a bordo campo Ripeto Possono stare in campo Solo Chi è Iscritto In distinta Abito Deve applicare Il regolamento Il regolamento Carrozza Va dietro D'Adavi Ancora 10 uomini Il Palermo Vediamo se Ce la farà Mattaliano Anche se Già fermato Due volte Meglio Farlo uscire Secondo me Pallone Verso D'Amico Poi Rizzo Viene Contrastato Alla fine Pallone Verso Soffrata Allorrizzo Poi Qui Fallo Secondo me D'Amico Infatti Il regolamento Lo fischia Non è d'accordo Invece Angilella Direi che Giusto Questo Fallo Calcio Di punizione Per il calcetto Va Il numero 10 Carrozza Deve sfruttare Ovviamente Le palle inattive Il calcetto Tutto Pronto Per questo Calcio Di punizione Due uomini In barriera Per Pileri Va Carrozza Sul Secondo Palo Pallone Troppo lungo Per Davi Prova a diventare Quest'azione Ancora il calcetto Guadagna Credo Rimessa 3 Infatti Sì Rimessa 3 Per il calcetto Anello Poi Scardina Pallone Che termina fuori Vediamo Calcio Inissione Per il calcetto Se vedo bene Se vedo bene Sì Non so Quanto Che fallo ci sia stato Qui Comunque Stai fatto che Calcio Per il calcetto Per il calcetto C'è un cambio Nelle file Del Vediamo Anzi no Rientra Mattariano Quindi non c'è un cambio Nelle file Del Palermo E rientrò di nuovo Mattariano In campo Vediamo se Adesso Adesso si è ripreso Del tutto Tutto è pronto Calci Pizzone Battuto All'inite Ancora molto Arredato Poi la gira Tresce la palla Che rimane E' lì Tiro Cosa ha sprecato Qui Rizzo Tutto solo Rizzo Sprecato Era tutto buono Posizione regolare Davvero Quei qui Pileri Ovviamente Era giocato Con le mani E l'aveva giocato Subito Mattariano Ovviamente Questo deve essere Giocato Con i piedi Mattariano Va da Angilella O comunque Occasionissima Per il calcetto Era tutto buono Rizzo Ha avuto Una grande Occasione Ficcia un fallo In favore del Palermo Fallo Commesso i danni Di Scardina Pronto A battere Basile Apertura Verso San Nasardo Poi il Palermo È recuperato Dal calcetto Ok qua C'è la possibilità Di partire incontro Piede Chiude bene Ancora Balsano Poi Inbucata In verticale Cross in mezzo Davide Mette fuori Adesso Ancora Palermo Che attacca Con San Nasardo Palla al limite Per il re Coppa Coppa Fino in fondo Ancora Coppa Murato Il suo Tiro Poi Palla Ancora al limite Ci prova Anche Poi posizione Netta Di fuorigioco Qui ci ha provato Ancora Cintura Da fuori Si riprende a giocare Davì Subito pressato Però Dal capitano Palone verso La zona Dimmi loro Anticipato Numero 11 Poi Ancora Carrozza Va da Barone Anzi Danello Poi Fiore Scardino Anticipato Poi Posizione di fuorigioco Si Da parte Di L'amantia Pallone E' rinviato E' rinviato La difesa Del calcetto Grande Difesa Da parte Di Scardina E' Bucata Verso Miloro Chiude bene Qui Mattaliano Dunque Gautti La difesa Da parte Di Scardina Poi Angilella Basile Apre Dalla Rosa Ancora Poi Inbucata Pedicone Con coraggio Esce Con i pugni Poi Ancora Barone A mettere fuori Angilella Chiede L'1-2 Cintura L'ultimo tocco E' il suo Rimessa Tra l'è Per il calcetto Quando siamo Al Trentacinquesimo Dieci minuti Al termine Di questo Match Credo che ci sarà Comunque Qualche minuto Di recupero Perché Si è fermato Il gioco Diverse volte Parola Verso Miloro Che non riesce A controllare bene Rimessa Tra l'è Per il Palermo Provai A caricare I suoi Mister Patti Poi Qui c'è Lo sconto Di gioco C'è un fallo In favore Del calcetto Calcio Per i padroni Di casa Già battuto Davi Fiore Va Dietro Ancora Da Pedicone Che ha Sulla coscienza L'errore Regalo Che ha fatto A cintura Per i gol Del 1-0 Il pallone Che è terminato Addirittura Fuori dal Dal campo Viene dato Un pallone Dalla panchina Ma nel frattempo Ovviamente Come succede Spesso in questi casi Pallone Che viene Riconsegliato subito All'altro lato E quindi Si gioca un po' L'altro pallone Qui anticipa Tomi Loro Di testa Rizzo Poi l'altro Rizzo Giovanni Maria C'è cintura Cintura Prova a saltare Rizzo Grande Difesa Da parte Di Rizzo Che adesso Prova a partita Gran palla In verticale Per Per Rizzo Poi Scardina Ancora Scardina Può aprire il gioco Verso Tamico Preso in controtempo Rimessa da tre Per il Palermo Dunque Il calcetto C'è È vivo San Nassardo Viene Chiuso Da Carrozza Carrozza Inblocata verso Miloro Tutto buono Miloro Perde l'attimo Buono Poi ancora Miloro Poi rimane lì E mette fuori la rosa Occasionissima Per il calcetto Con Miloro Che ha perso Troppo tempo Qui Miloro Dove essere più cattivo Attaccare subito la palla E E tirare Invece Diciamo Ha pregustato Secondo me Il gol Ha perso troppo tempo Ovviamente È stato chiuso Dove essere più Rapido Lì nel calciare Però comunque Occasionissima Per il calcetto Che Sta giocando Un'ottima gara Qui Scardina Viene chiuso Pulito L'intervento Sul pallone Da parte di Basile Scardina Che poi chiede Ah Danello Se ho visto bene Di comunque salire Salire di più Spineci più Su quella fascia Rimessa Terebbe di calcetto Pronto a battere Fiore Ancora Il pallone Che rimane lì Recuperato Dal palermo Allora La rosa Va a lungo Pedicone La gioca lui E alla fine Prende con le mani Insaggiamente ovviamente Pedicone qui Aspetta che il pallone Entresse dentro Per prenderla Con le mani Pallone Pallone recuperato Poi imbucato Subito Di uniemi Pallone tra le braccia Ancora di Pedicone Davi Fiore Ancora Davi Va a lungo A cercare Scardina La prende Il numero nove Poi Buca qui L'intervento Basile Però Poi se la ritrova E va dietro Ancora da Pileri Poi Ancora Pallone Giocato dal palermo Poco Movimento Allora Ancora Duettano Martanano E Balsano Alla fine Va Dalla rosa Prova a salire All'esterno Sinistro Qui Pallone recuperato Dal calcetto Poi Scardina Va a partire C'è Miloro Alla fine Saggiamente Va centralmente Da carrozza Poi D'Amico Viene chiuso Guadagnari Messa da trale Miloro D'Amico Poi Angilella L'ultimo tocco Il suo Rimessa da trale Per il calcetto Comunque sta Dispondendo Un'ottima gara La squadra Di Mr. Patti Però complimenti Mr. Patti Che l'ha preparata bene Poi Pallone Che è Tremiato fuori Quindi sarà Rimessa Anzi no Scusate Il calcio Fuori gioco Ok fuori gioco Fuori gioco Già battuto San Nasardo Vada La rosa Poi Lancio Lunghi in avanti Davide Di testa Poi Pallone Alla fine Giunge la stessa La mantia La mantia E Pellicone Stavolta fa Un grande Intervento Davvero Decisivo Pedicone Che Blocca Un pallone Davvero Non facile Quando siamo Giunti Al 40 A 40 E 23 4 Minuti E mezzo Alla fine Pileri Si va Vedere Sempre Incontro San Nasardo Poi Mattaliano Basile Ancora lui Apre Balsano Lancio Lunghi in avanti A cercare lo scatto Di la rosa Ancora la rosa Può mettere dentro Mette fuori però Poi Davide Barone La fine Palone Che E' uscito Rimessa Per il calcetto Giusta La decisione Del direttore Di gara Forse è stato munito Un giocatore del Palermo Non ho visto il chi Però Ho visto solo l'abito Lo scrive Quindi credo Che ci sia stata Un Una munizione Rizzo La gira di prima Chiude bene Basile Poi La rosa Basile Il pallone È recuperato Solo per un attimo Da il calcetto Davide Testa Poi Cintura Si contrasta Col suo compagno Si tratta Di uniemi Proprio lui Ancora uniemi Grande Chiude da parte Di Rizzo Poi Damico Prova a lottare Ma la meglio Angilella Ancora Angilella Tagli il campo C'è sempre Qui poi Innetto il fallo Se i danni L'arbitro Concede il vantaggio Pallone in mezzo Pedicone In due tempi Poi Pallone che gli scappa Attenzione Pallone buono ancora Per Coppa Poi Recupera Palla Scardina Che aiuta anche In difesa Lancio lunghi In avanti C'è cremmi Loro Anticipato Da Basile Poi palla Limite per il Palermo Chiude bene La difesa del calcetto E grande giocata Di carrozza Apre bene Verso D'Amico Chiuso Il suo passaggio Poi D'Amico C'è un fallo E' un danni Netto Netto qui Fallo E' danni di D'Amico Che aveva preso il tempo Al giocatore Del Palermo Forse un'altra munizione Che la Petro Scrive Scusate ma Non l'ho visto Davi Va da Rizzo Inbocata verso Scardina Troppo Su Pileri Corre bene comunque La profondità Il Palermo Ancora Pileri Apre Ancora Verso La Rosa Poi Mattaliano Chiede ai suoi di salire Apertura Verso San Nasardo E' sempre lui Il legista Del Palermo Si fa vedere poi Tra le linee cintura Chiude bene Qui Barone Rimessa tra le Per il Palermo Davanti alla propria panchina Pronto a battere Angilella Ancora Il due rosa nero Va Da Balsano Che apre Verso la rosa Per la rosa Prova il lancio Alla fine viene colpito Barone Non si era reso conto Di dove fosse finito Il pallone Alla fine Il pallone che termina Fuori Sarà Rimessa Alla tre Per il Palermo Quando mancano Trenta secondi Alla fine Vediamo se ci sarà Il recupero Davi Cosetta lontanale Deve salire veloce A difesa del Palermo Poi Angilella Non vuole rischiare Va dietro Da Pileri Allora Prova A risistemarsi Il Palermo San Asardo Va di nuovo Da Pileri La rosa Va dietro Ancora Da Capitan Basile Ancora San Asardo Tutti i palloni Passano dal numero 4 Adesso prova I tifosi Delle Il calcetto Però ancora attacca Il Palermo Pallone Termina fuori Rimessa Trancola Per il rosa Nero Quando Non ho visto L'abito Di recupero Di recupero Non so se L'ho dato Penso di sì Visto che siamo Già arrivati a 45 Qualcosa Prova a salire Qui ancora Ancora Anello Viene però Rimontato Il Palermo Qui Basile Si abbassa San Asardo Allora Basile Va a lui Il Palermo Verso Angilella Inbucata A cercare Un Iemi Forse la controlla Con un braccio Ancora un Iemi Prova a andar via Ancora Il numero 8 Rosa Nero Viene chiuso Però benissimo Da Barone Davide Mister Patti Che dava l'abito Con un fallo di mano Precedenza Finisce qui La prima passione Di gioco Palermo 0 Scusate Calcetto 0 Palermo 1 Decide Qui Fin qui Il gol Siglato Da cintura Al 25esimo Regalo Concesso Da parte Di Pedicone Comunque Il calcetto Sta giocando bene C'è Ha avuto anche Delle occasioni Davvero Sta giocando bene La squadra Mister Patti Adesso Pausa Ci rivediamo Fra una quindicina Di minuti circa Per il secondo tempo Per il secondo tempo Per il secondo tempo P смотреть Grazie. Ben ritrovati tifosi e tifosi di Filucitv, sta bene, dipende il secondo tempo alla gara, c'è un cambio nelle file del calcetto, allora è uscito Pedicone, ed è entrato Arcaio. Ripende la partita, inizia adesso il secondo tempo tra il calcetto e Palermo, prova a attaccare subito il Palermo, Palermo che ricordiamo sempre incompleto rosa nera, attaccherà da destra verso sinistra in questo secondo tempo, mentre il calcetto incompleto bianco e blu, attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi. Ricordiamo il punteggio sempre 1-0 per il Palermo, errore da parte di Pedicone che ha regalato palla a cintura che è tutto solo a porta vuota, ha fatto 1-0. Lancio lungo in avanti la parte di Mattagliano, imbocata verso Niemi, chiude da amico, poi anche con l'aiuto di Rizzo. Poi prova a lottare su questo pallone carrozza, ma alla fine hanno la meglio i giocatori del Palermo, alla fine passaggio sbagliato, rimessa laterale per il calcetto, pronto a battere Anello, alla fine poi lascia il pallone a fiore. Però fa molto caldo questo G a Palermo. Poi in arriva su questo pallone, Rizzo, poi Davì si fa sfuggire il pallone dalla Mantia, poi ancora Davì però a rimediare. Barone, imbocata verso Miloro, chiude bene Mattagliano. Barone, poi è imbocata da parte di Rizzo, poi lo entra nella braccia di Pileri. Ancora San Nasardo, si va a vedere centralmente, poi apre lui il gioco verso Angilella. Viene chiuso qui cintura, rimessa tra le... che è in favore del Palermo. Vada Amico, poi alla fine la lascia. Apertura sulla sinistra verso Balsano. Vada la rosa, imbocata centrale verso Coppa, viene anticipato. Poi ancora Balsano, chiude su Fiore. Rimessa tra le... per il calcetto. Carrozza, in avanti esce Cades, Cardina, però fa buona guardia alla difesa del Palermo. San Nasardo. Balsano, gira di prima verso la rosa, chiuso subito da Barone, allora è costretto a tornare dietro Basile. Ancora San Nasardo. Ancora Basile. È messo bene il calcetto, comunque sta facendo un'ottima gara. L'errore di Pedicone. Sta costando qui la sconfita, qui duro scontro di gioco. Alla fine calcetto, posizione per il Palermo. Rimangono a terra i giocatori. Si tratta di Carrozza e Lamentia. Ancora a terra. Carrozza. Lamentia sembra comunque stare bene. Cioè, eh sì, a terra, però... Sembra che non sia davvero uno legale. Beh, infatti si rialza, ma rimane ancora a terra Carrozza. Piccola pausa. C'è chi ne approfitta anche per dissetarsi. Si rialza. Qui Carrozza. Ecco, strettamente uscita dal campo, visto che è intervenuto lo staff medico. Tutto pronto per questo calcio di punizione in favore dei Rosanero. Ancora uno schema. Attenzione, Coppa la gira verso Angilella. Angilella va sul fondo, però chiuso bene da giocatore del calcetto. Si tratta di Barone. Pallonella è recuperata ancora da Barone. Poi qui Balsano, grande giocata. Ancora di numero 7. Anzi, scusate, si trattava di Cintura. L'autore dell'1-0. Poi qui intervento deciso da parte di D'Amico, senza commettere a fallo. Poi Mattagliano. San Asardo. Alla fine Angilella. Gioca bene il Palermo. Basile. A spazio. Può avanzare a pace di palla. San Asardo che la discarica. Poi Basile va ancora dietro da Pileri. Angilella. Che è attaccato molto nel corso del primo tempo. Poi apertura verso la Rosa. Taglia il campo centralmente. Poi Bucata. Cercare Lamantia. Viene chiuso però da Rizzo. Poi Milo. L'anticipato. Rimane a terra un giocatore del Palermo. Si tratta, credo, di Cintura. Poi alla fine è rimessa tra le per il calcetto. Anzi, si tratta di Balsano. Forse si è fatto male il nostro contro di gioco. Il numero 7. Pronto un cambio. Da entrambe le parti. Allora, sta per entrare il numero 14 di Zenatello. Ed esce... Anello. Quindi non cambia nulla fondamentalmente. Uno esterno per un altro. Esce poi il numero 7. Balsano. Si è fatto male in questa circostanza. Ed è entrato il numero 16. Granata. Si può riprendere a giocare. Rimessa tra le per il calcetto. Poi Fiore rischia qualcosa. Infatti, ripartenza del Palermo. Attenzione. Tutto buono. Posizione regolare. Per Uniemi. Uniemi. Fa 2-0. Freddezze da parte di Uniemi. E 2-0 Palermo. Qui errore di Fiore. Avrò due gol del Palermo. Due errori in fase di impostazione per il calcetto. Qui azione in ripartenza bellissima del Palermo. Grande girata di prima da parte di Lamantia. Vede l'inserimento centrale di Uniemi. E fa 2-0. Qui apertura verso D'Amico. Buona che termina fuori. Rimessa tra le per il Palermo. Adesso non deve disorganizzarsi il calcetto. E comunque, nonostante il risultato 2-0, sta facendo un'ottima gara. Ha avuto le sue occasioni nel corso del primo tempo. Ovviamente, quando contro squadra come il Palermo. Fai, due errori. Anche se stai facendo una partita perfetta. Questi due errori ti costano caro. Finessa 3 in zona attacco per il Palermo. Palone verso Cintura. Prova a difenderla il numero 10. Poi Granata la gira. Ancora San Nasardo. Bella l'apertura verso la Rosa. Gioca bene il numero 4. Poi pallone in mezzo. Davide liscia. Rimedia detto di lui. Ma credo che qua ci sia un fallo in favore del calcetto. Non visto dal direttore di gara. C'era Fallo e danni di Rizzo. La fine pallone che termina tra le braccia. Di Arcaio. Davide apre sulla corsia destra. Verso Zenatello. Qui perde palla. Apre un attimo Rizzo. Poi Barone apre da D'Amico. Sulla schiena di giocatore del Palermo. Ancora Barone. Prova a lottare in mezzo al campo. Perde palla. Va giù. Barone. Viene subito richiamato però lo staff medico del calcetto. Perché Barone è caduto davanti proprio al direttore di gara. Allora si ferma nuovamente il gioco. Quando siamo giunti all'undicesimo minuto. 2-0 per gli ospiti. Faremo un doppio vantaggio. Sul primo tempo con la rete di cintura. Secondo tempo all'ottavo minuto. La rete di Uniemi. Mister Patti va a richiamare Davide. Il capitano. Dà indicazioni a lui. Si è rialzato Barone. Però ha qualche problemino. Vediamo se riuscirà a farcela. Siccome credo che il... Ah no. Alla fine Barone esce. Si può riprendere a giocare. Barone è affidato dal Palermo. Poi lancio lunghi davanti. Cerca ancora lo scatto di Uniemi. Davide. Anzi scusate Fiore. Chiude bene. Poi ancora Fiore. Prova a lottare. Forse è un falso danno. Infatti è così. Calcio di piccino per il calcetto. Rientra in campo Barone. Quindi ce la fa Davide. Rischia ancora. Marcando in difesa. Però grande personalità da parte del capitano. Poi di testa Uniemi. Ancora Zenatello. Poi Pallalimite. Ancora Zenatello. Ancora prova a lottare. Numero 14. Poi Miloro. Miloro. Grande giocata. Poi Scardina. Poi ancora Miloro. E poi la fine mette fuori la difesa del perma. Qui si sono diciamo pestati i piedi. Miloro e Scardina. Qui Scardina doveva muoversi. Lasciare lo spazio qui. Arcaio. Rischia tantissimo sul pressing. Da parte di cintura. Saracava l'estremo difensore. Poi lancia lunghiamante. Cercare Scardina. Pallone recuperato da Zenatello. Poi Rizzo. Barone. Ancora Barone. Numero 4. Davvero fondamentale in mezzo al campo per il calcetto. Si ristabilita la grande Barone che poi prova questa azione personale. Alla fine è il pallone che termina tra i piedi di Pileri. Si va allora da Angilella. Pallone ancora dietro verso Pileri. Davvero con calma adesso il palermo va a gestire la gara. Pallone ancora verso Mattelano che si è ristabilita dopo essersi fermato due volte nel corso del primo tempo. Per via di un epistassi qui la rosa cosa che parla si è uscita infatti è così. Rinessata lei per il calcetto. Qui c'è un fallo forse danni di Rizzo. Si calci di punizione. L'abito ferma il gioco perché forse se ho visto bene si è scontrato forse con il direttore di gara. Quindi il direttore l'abito che va comunque a rialzare il giocatore del calcetto. Cambio nelle file del calcetto. Esce Miloro. Al suo posto entra Baza il classe... 2006... Scusate anzi classe 2007 Baza. Per chi segue le partite del calcetto under 15. Sa benissimo che gioca nel calcetto under 15. Baza in gol della scorsa però... Per lui comunque... Oggigiorno è importante perché... giocare contro il Palermo è sempre bello. Soprattutto quando lo fai con quelli più grandi. Poi di San Nassardo alla fine l'arbitro ferma il gioco. Perché si deve ripetere la rimessa laterale. Adesso si può ripetere a giocare il pallone sempre... Treventi dei giocatori del Palermo. Basile. Avanza il capitano. Chiude... L'appoggio... Da parte di qualcuno alla fine trova... Mattagliano. L'angelo in avanti. Chiude bene D'Amico. Poi Baza la gira bene. Va da carrozza. Ancora il numero 10. Prova a salire. Zenatello gran palla. Ma chiude bene la rosa. E poi subisce un calcione. E questo... Secondo me è cartellino giallo. Vediamo se l'arbitro glielo darà. No. Alla fine grazia. Zenatello l'arbitro. Qui ottimo. L'anticipo da parte di la rosa. Che poi subisce un calcio. Poi prova a partire Messina che è entrato. Mi sono perso un cambio nelle file del Palermo. È entrato Messina. Il numero 19. Credo che sia uscito... L'amantia. Anzi non l'amantia è in campo. Quindi... È uscito... Coppa. Esterno sinistro Coppa. Al suo posto è entrato Messina. Poi in bucata. Chi la difende bene è l'amantia. Sull'attacco di Davi. Poi lo scarico dietro. Verso il giocatore del Palermo. Ancora... Granata. In bucata che non riesce. Poi... Pallone è messo fuori... Da carrozza. Scardina. Prova a tenerla. Fa bene il numero 9. Poi prova a lanciare... Davide D'Amico che non è una cattiva idea. Pallone è troppo lungo per il numero 7. Comunque buona qui l'apertura... Da parte di Scardina. Che nel corso del primo tempo stava per fare un grandissimo gol da fuori aria. Pallone che è finito... Poco distante sopra la traversa. Difesa da Pileri. Davi qui. Ottimo anticipo sulla mantia. Poi Davi. Va dietro qui. Attenzione. Deve stare attento alla difesa del calcetto. Rizzo. Poi rinvia. Alla fine il pallone è recuperato da Angilella. Ma ancora Rizzo. Pallone aperto verso Scardina. Ci arriva il numero 9. La difende bene. Ancora Scardina qui. Poi voleva farsi fallo. Alla fine va per perdere il pallone. Qui ottimo. Interventi scivola da parte di carrozza. Cambio nelle file del Palermo. Anzi doppio cambio. Vediamo. Allora esce. Stavolta sì la mantia. Ed entra il numero 20. Noto. Poi non ho visto chi è uscito. L'altro giocatore del Palermo. Esce anche Barone. Comunque ha fatto un'ottima gara. Probabilmente si è infortunato in quella circostanza. Ha provato a stringere i denti. Al fine si è dovuto rendere. È entrato al suo posto presti. Presti. Qui Davi ancora a rischiare sull'attacco di Noto. Poi apertura verso D'Amico. Nel Palermo è entrato il numero 15 Marchese. Che sta al posto di Uniemi. Qui colpo di testa. Occasionissima per il Palermo. Vicino al 3-0 con Noto. Qui attenzione. Il pressing alto da parte del Palermo. Se la cava bene qui il calcetto. Poi forse c'è un fallo. La DNA di Baza. L'abitro lascia giocare. Poi ancora Marchese. Prova a lanciare Noto. La fine c'è un fallo. Calcepizione per il calcetto. Anzi no forse Palone che ha toccato l'arbitro. Scusate. Sì Palone che ha toccato l'arbitro. E quindi Palone si vede dal Palermo. La Rosa. Ancora Marchese. Imbucata verso San Nasardo. Poi Fiore. Si può portare via il pallone. Pallone arretrato. Attenzione da Amico. Decisivo qui. Chiude bene. Allora prova a partire Baza che è velocissimo. Chiusura ancora importante da parte di Basile. Fiore va dietro con un passaggio davvero molto rischioso verso Arcaio. Poi Rizzo lascia sfilare da Amico alle sue spalle. Viene chiuso la ripartenza da Palermo. Adesso aumentano gli spazi perché le squadre vanno allungandosi. Visto comunque subentra la fatica. Scardina. Lo scarico dietro verso Zenatello. Imbucata a cercare lo scatto da parte di Presti. Palone troppo forte. Dove sarebbe il passaggio qui Zenatello. Cambio nelle file del calcetto. Sta per entrare Bonafè. Questo posto è uscito fiore. Marchese. Marchese. Pallone verso la Rosa che la tiene però prestato da Zenatello. Alla fine è rimessa tra le per il calcetto. Secondo me qui la rimessa era in favore del Palermo. Ancora si va dietro da Bonafè. Con calma serve Davi. Poi Rizzo. Da Amico. 1-2 che riesce. Ancora Rizzo. Può ad avanzare. Ancora Rizzo. La fine è il palone che non è uscito. Quindi si continua a giocare. Marchese. Prova a partire da su. Pressato. Sbaglia. Marchese. Poi imbucata verso Bazzaro. Scarico che non riesce verso Scardina. Poi apertura ancora verso Noto. Bonafè a rinviare più lontano che poi la minaccia. Su questo palone ci arriva prima la Rosa. Però pressato la Rosa. Che ne riesce a tenerlo in campo. Ancora possesso calcetto. Prova a partire presti. Viene chiuso però il numero 15. Allora prova a partire il Palermo. C'è spazio per Cintura. Può attaccare ancora l'ottore dell'1-0. Cintura. Entra entro la Cintura col destro. Arcaio. Palone che gli scappa. Poi salva tutto. Bonafè. Decisivo l'intervento da parte di Bonafè. Ma qui errore da parte di Arcaio. State pronti per questo calcio d'angolo. Pronti a battere San Nasardo. Pallone sul secondo palo. Mette fuori Davi. Poi Presti. Anticipato qui Baza. Poi Davi qui il retropassaggio. Che regala palla a Noto. E Noto fa 3-0. 3 gol del Palermo. Tutti e 3 nati da errori del calcetto. Però peccato perché il calcetto ha fatto un'ottima gara. Nonostante il risultato. Il risultato di Dey che è bugiardo. Non ne vogliono i giocatori, i tifosi del Palermo. Ma chi ha visto la partita, ha seguito la gara, sa benissimo che 3 gol sono venuti tutti e 3 da errori del calcetto. In fase di impostazione. Il secondo è nato da un errore del calcetto. E poi comunque è ripartito bene il Palermo. Ma il primo è il terzo. Ovvero due regali concessi. Prima da Peticone e poi da Davi. Cambio nelle file del Palermo. Sta per entrare il numero 14 Mele. Al suo posto è uscito Cintura, l'autore del 1-0. L'arbitro fa riprendere adesso la gara. 3-0 per il Palermo. Qui ancora Bonafari ha pressato da Messina. Adesso deve cercare comunque quanto meno il calcetto di contenere i danni. Qui in bucata a cercare d'amico. Viene anticipato però dall'ottimo incursura da parte di Angilella. Pallone verso ancora Mattagliano. Angilella. Lo scarico dietro verso il giocatore del Palermo che da qui non riesco a vedere. Poi Basile. Marchese. Poi Mattagliano apre il gioco. D'Angilella lancia in avanti. Qui Arcaio esce. La fa sua. Davi. Qui sbaglia ancora Davi. Va bene la prima volta. Va bene la seconda volta però. Non significa questo che. Allora bisogna Marchese sempre in difesa. Infatti questa volta Messina stava a portargli la via. Poi Arcaio lancia lunghi in avanti. Ancora Marchese. Poi recupera palla il calcetto. In bucata a cercare Baza. Pallone verso Scardina. Scardina ancora gran palla verso Baza. Che non riesce a vedere poi su questo pallone. Non era male questa idea. Questa giocata del calcetto. Rimessa da dare per i padroni di casa. Quando siamo giunti al 29esimo. Che sta per scadere proprio in questo istante. 3-0 per il Palermo. Rimessa laterale. Ancora credo per il calcetto. Attenzione qui. C'è la fine. Un inviato al fondo. Pileri. Gioca corto. Va da Mattaliano. Apertura sulla corsia mancina dalla rosa. Poi la protegge. La difende bene. Qui Noto. Gioca corto del 3-0. Apre sulla corsia destra. Prova a partire. Gioca corto. Alla fine lui è a commettere fallo. Calcimissioni in favore del calcetto. Poi qui va giù un giocatore del calcetto. Calcimissione per i padroni di casa. Batte subito Rizzo. Va da suo fratello. Ancora Palone che si impenna. arriva a mettere fuori il giocatore del Palermo. Ancora rimessa 3 in zona d'attacco per il calcetto. Rimessa 3. Battuta. Pallone regalato al giocatore del Palermo. Poi ancora palla al limite. Mette fuori ancora la difesa del Palermo. Prova uscire palla a piede. La squadra di Mister Governale. Mister Patti che ha messo ad essere più corti. Vuole essere più compatta la squadra. qui in bucata centrale a cercare ancora la giocata di Granata. Perde palla però. Poi Scardina appoggia dietro verso Carrozza. Carrozza qui poteva andare all'1-2. Perde palla. Poi in bucata accensione per lo scatto di Noto. Noto contro Davi. Noto chiude bene. Capitano Davi. Rimessa la 3 per il Palermo. Qui Marchese. Lo scarico di Noto verso la rosa. La rosa va al cross. Sarà a calcio d'angolo per il Palermo. 32 sul cronometro. Rimangono alti Scardina. D'amico. Pallone in mezzo sul secondo palo. Colpa di testa. Pallone che viene lì. E poi sarà di nuovo calcio d'angolo per il Palermo. Stavolta. Però dall'altro lato. Va sempre a battere San Nasardo. Tutto è pronto per questo calcio d'angolo. San Nasardo alza le gambe le braccia. È uno schema. Pallone in mezzo. La fine mette fuori difesa del calcetto. Poi deve stare attento qui. Mele. Alla fine Pallone recuperato dal calcetto. D'amico. Però va subito a innescare lo scatto di Scardina. Fa buona. Guarda però Capitano Basile. Poi Pileri. La fa sua. Qua è... Da sottolineare la buona prestazione da parte dei giocatori del calcetto. Ripeto. I tre gol sono nati da tre errori. Proprio dai padroni di casa. Ovviamente il Palermo ne ha approfittato. Anche se comunque il dominio di gioco l'ha avuto sempre la squadra rosa-nero. Un noto. Qui poi c'è una scontra di gioco. Si continua a giocare. Poi Marchese. L'ultimo tocco è proprio il suo. Quindi rimessa laterale per il calcetto. Pronto a battere con le mani di Bonafè. In boccata centrale dei Mattaliano. Qui nessuno mi chiama nuovo a San Nasardo. Che perde palla. Poi ancora padrone in favore del Palermo. Qui direi nettamente regolare la posizione del giocatore del Palermo. Poi palla al limite. Il tiro murato da Bonafè. Poi ancora il tiro arcaio. Si salva ancora il calcetto. Qui chiedevano un fuorigioco che assolutamente non c'era. Era tutto in gioco sia da Davide sia da Bonafè. Qui ancora Scardina. Pallone a cercare D'Amico. Alla fine va giù D'Amico. Ma il pallone ce l'ha tra le braccia Pileri. Prova ancora a ripartirei Palermo con Mattaliano. Apertura sulla corsa mancina verso la rosa. Il pallone è troppo arretrato rispetto alla sua posizione. Rimessa laterale per il calcetto. Quando siamo giunti al trentaseiesimo minuto. Inbocata verso Noto. Ancora Noto. È solo. Vediamo se sfida lui. Ancora Noto. Fino in fondo Rizzo però. È in anticipo. Fa buona guardia. Alla fine il pallone che non è uscito. Poi qui c'è un fallo. E danni di Rizzo. L'abito però non è di questo avviso. Rimana giù ancora Rizzo. Forse l'abito ha visto bene comunque. Perché a fine Davide mette il pallone fuori. Adesso sarà rimessa da tre per il Palermo. Ma penso proprio che il Palermo avviene con un grande gesto di fair play. Restituerà la palla ai padroni di casa. Qui rimane giù giocatore del Palermo però. Nessuno forse se ne rende conto. C'è Noto a terra. Adesso entra lo staff medico. Si rialza però Noto. C'è un cambio. E le file d'Ello e Palermo. E' da noi chi stava per entrare. Nel tempo Noto dice di essersi fatto credo male all'inguine. Vedrò invita. Ovviamente Noto è il medico del Palermo a uscire a fargli dal campo. Si riprende da giocare. Davide. Vada a Bonafè. Poi scardina. Lo scarico dietro. Verso Carrozza. Allora Davide. C'è spazio per andare da quel lato. Per Rizzo. Avanza Rizzo. Poi pallone in mezzo. Ancora in bocata da parte di Rizzo Gabriele. Per nessuno però rimessa dal fondo per il Palermo. Quando siamo giunti al trentottesimo. Ancora in vantaggio per tre reti. La squadra è rosa-nero. Per frattempo rientra in campo Noto. Nulla di grave per lui. La rosa va ancora dietro da Basile. Ecco stanno per entrare nelle file del Palermo. Sparascio. E Salamone. Basile. C'è lo spazio per andare. Gran palla di Basile. Per lo scatto di Noto che è di testa. Poi salvataggio sulla linea. Ma c'è calcio di rigore. Calcio di rigore per il Palermo. Fallo di... Fallo di Arcaio. E danni di Noto. Calcio di rigore per il Palermo. Qui Noto ha preso il pallone. Sta per segre di testa. Salvataggio sulla linea di Davide. Ma direi che è netto il fallo. commesso da Arcaio e danni di Noto. Non ha preso completamente la palla Arcaio. Ha preso solo il giocatore rosa-nero. Adesso tutto è pronto per questo calcio di rigore. Tutto è pronto. Va proprio il numero 20. Noto contro Arcaio. Noto. Spiazza Arcaio. Ed è 4-0 per il Palermo. la doppietta del numero 20. Noto 4-0. Pesante sconfitta per il calcetto. Ecco, ormai di questo si tratta. Visto che mancano pochi minuti al termine. Sul stato di 4-0. Doppio cambio nelle file del Palermo. Come vi ho preannunciato. Stanno per entrare Sparcio e Salamone. Rescono al loro posto. Vedremo chi. Ok, sono usciti Battaliano e Angilella. Ottima comunque la partita sulla corsia destra da parte di Angilella. Però sempre una schiena nel fianco della difesa del calcetto. Si riprende a giocare quando siamo giunti ormai al 41esimo. Meno di 4 e mezzo alla fine. da lì. Apertura sulla corsia Mancina. Poi il pallone viene chiuso proprio da Mele. Poi prova a partire ancora Salamone. Poi il pallone verso Granata. Viene giù. Va giù. Calcio di punizione per il Palermo. Ancora Stannasardo non rinuncia a lui mister governare. Avvero lui lamenta di questo Palermo. Tutti i palloni passano dal numero 4. Qui in Bucata verso Messina. Pallone da detrato a cercare Salamone. Poi ancora Salamone. Pallone in mezzo. Arcaio gli scappa e c'è il gol del 5-0 gol da parte di Salamone. Appena entrato fa 5-0 errore qui da parte di Arcaio. ben 4 dei 5 gol siccati dal Palermo sono noti tutti errori del calcetto qui direi netto l'errore da parte di Arcaio Mister Patti sta per mandare in campo anche se non ho tirato Chiello Carlo Chiello qui ancora prova attaccare il calcetto pallone che giunge nella zona di Messina alla fine pallone da parte di San Asardo che prova a far partire il suo compagno poi era fuorigioco qui noto ma in posizione regolare invece numero 19 Messina era in posizione regolare qui prova a partire ancora Marchese pallone in mezzo Davide mette fuori pronto il cambio nelle file del calcetto sta per entrare Carlo Chiello dal suo posto esce carrozza che comunque ha fatto una buona gara numero 10 15 entra in campo Chiello ormai manca meno di minuto e mezzo alla fine non so se darà recupero risultato di 5 0 partire da me che non ha più nulla da dire bazza prova a partire ancora bazza grande giocata poi pallone verso scardina va dietro da zenatello ottimo qui l'anticipa parte di davi poi l'imbocata ancora verso bazza prova a attaccare ancora il calcetto ultimo forse che si ritrova qui ottima così da parte di rizzo poi va giù il giocatore del calcetto si tratta di D'Amico battute finali di questo match e allora diciamo che il Palermo ha fatto sicuramente la gara però il calcetto ha tenuto testa però nel primo tempo partita è equilibratissima poi al venticinquesimo errore da parte di Pedicone che ha regalato palla a cintura che è a porta vuota proprio a porta vuota e spalancata ha fatto 1-0 dunque ha tenuto testa il calcetto poi in secondo tempo paremmo che ha trovato 4 gol ma di cui ben 3 sono avvenuti da dei regali da parte del del calcetto diciamo se fosse stato più attento della squadra dei mister patti non magari si alla fine avrebbe perso ma non di 5-0 ovviamente quando giochi contro squadre in generale comunque forti comunque squadre comunque forti come il Palermo quando concedi questi regali però difficilmente sei graziato siamo già entrati nel recupero non ho visto quanto ha concesso il direttore di gara poi ancora pallone in possesso per il Palermo ovviamente adesso gira palla la squadra rosa nero non ha più diciamo bisogno di affondare non vuole più affondare il colpo pensa a gestire l'anticipo di Bonafè attenzione c'è spazio per andare da Scardina voleva far passare questo pallone ma capisce tutto Basile poi qui grande difesa della palla da parte di Noto che fa scattare il suo compagno ma posizione di fuorigioco sono sei minuti di recupero dicono dal coordinamento siamo già ovviamente nei minuti di recupero credo che siano passati almeno tre pallone ancora in possesso per il rosa nero provano a gestirla nel finale pallone verso Marchese ancora Basile apertura sulla corsia mancina verso Salamone che appena entrato ha fatto assigliato i gol del 5-0 poi gran palla da parte di San Nasardo davvero ottima sua partita ottima sua prestazione qui poi entra sul mancino sul mancino si rimane giù giocatore del palermo credo che si sia fatto male contrastato da Chiello viene infatti richiamato lo staff medico forse crampi vediamo viene aiutato da due compagni non ho visto però di chi si tratta adesso con le immagini magari andiamo a capire di chi si tratta diciamo che dare 6 minuti nel recupero quando la partita si sta sul 5-0 insomma davvero è inutile rimane ancora giù il giocatore del palermo ancora non capiamo di chi si tratta che da qui non vediamo il numero di maglia ancora tempo che passa si accende a rialzarsi si tratta non ce la fa non ce la fa il numero 3 si tratta di la rosa rimane ancora giù molto molto dolorante diciamo la storia non da rialzarsi ma si è casciato di nuovo a terra perché è davvero molto dolorante ora ma diciamo di queste nuove si fanno quando il giocatore ha crampi ma capisco le rose ha fatto tutta la partita fa anche tanto caldo però già è a terra da diversi minuti ha corso comunque tanto il numero 3 adesso ha aiutato a rialzarsi vediamo credo che ormai non proseguirà più la sua gara visto che mancano pure pochi minuti ma come vedete è zoppica il numero 3 adesso sta abbandonando il terreno di gioco dopo un bel paio di minuti si ritorna a giocare vediamo se l'abito allungerà il recupero ma comunque direi che sarebbe davvero inutile visto il risultato di 5 a 0 Bonafè pallone centrale presti la gioca dietro Davide poi Chiello ancora presti ancora Chiello prova a portarla su lancio lunghi in avanti a cercare lo scatto di Badza alla fine tra le braccia di Pileri ancora possesso rosa nero l'abito guarda il cronometro vicino alla fine di questa gara ancora noto lo scarico dietro ancora verso Marchese se vedo bene poi qui invocata ancora di San Nassardo gran palla per il destro di Messina Messina 6 a 0 esulta con San Nassardo che ovviamente ha fornito un assist meraviglioso finisce anche qui la partita tra il calcetto e Palermo finisce con risultato di 6 a 0 San Nassardo direi migliore in campo della partita c'è un buon partita fil rouge direi San Nassardo numero 4 davvero impressionante in mezzo al campo ogni pallone è passato a lui adesso proprio la ciliegina sulla torta è stato questo passaggio meraviglioso per Messina partita che finisce qui con il risultato di 6 a 0 adesso staccheremo la diretta un saluto è tutto da Raperico Bono e buon proseguimento di giornata grazie a tutti Grazie a tutti